Questo invece è il Gabriele Gallo con i occhi assolto Sì ma guardate la telecamera, cioè Ecco, questo invece è il modello Gritty V Vedete il vestito veramente? La musicina è perfetta per il cambiare Ci sta troppo bene Dai dai veloci in scena, vai, uno, due, tre, via 3, 2, 1 Ok Troppo bolle Troppo bolle Questo modello Oddio No, fa un pochino marito di Britney Spears dopo che ha capito l'andazzo della moglie Tu mi hai capita No, questo è Britney Spears e basta Dov'è Britney Spears? Questo è Britney Spears dopo che ha capito l'andazzo della moglie Ma non ti viene Sparo! Ma non vuoi Cajal? Eh? Il Cajal La matita nera